Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta il sabato dopo le 17. Sono qui in studio con Carla Tocchetti. Ciao Carla, ben arrivata. Buongiorno a tutti. Allora, chi ci segue da un po' di tempo, ogni tanto c'è la voce di Carla con me. Perché? Perché parliamo di Varese, Battistiero di Velante, di mostre, di eventi da seguire e questa volta inizia una mostra con sette eventi. Parte appunto, inizia sabato prossimo, 12 febbraio, dal titolo, lo dico in italiano, Arte per un mondo globale. Ma di cosa si tratta? Dunque si tratta di un'iniziativa molto interessante che durerà otto settimane. Ci sono sette buoni motivi per venire a velate, per venire con la vostra compagnia da soli, per ascoltare gli incontri che proponiamo. Sono tutti incontri sulla sostenibilità, incentrati sugli obiettivi per lo sviluppo globale. Cosa sono gli obiettivi della sostenibilità? Sono un tema sul quale hanno ragionato queste due artiste svizzere. È un duo che ha un nome artistico che si chiama Eve Karkan, sono Claudia Cantoni e Patricia Carpani. Queste artiste svizzere sono una pittrice, una fotografa, lavorano insieme sulla medesima opera e si sono ispirate ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Sono degli obiettivi che sono stati fissati dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quindi sono gli obiettivi, una volta si diceva del millennio, sono stati superati da questi 17, che sono praticamente i criteri con cui tutti noi e le istituzioni possiamo contribuire affinché il nostro pianeta diventi un pianeta sempre più sano e sempre più vivibile. Quindi ci sono tante tematiche che possono essere affrontate. Nella mostra saranno riepilogate attraverso questa esposizione di opere e questo all'interno del Battistero di Velate e ci saranno altri appuntamenti nell'imitrofo teatro oratorio che fungeranno da temi di approfondimento. Quindi riprenderemo le tematiche di carattere generale e proporremo delle testimonianze a carattere locale. Questo perché nelle nostre mostre da sempre c'è questo desiderio di poter portare delle riflessioni generali che tocchino però la vita quotidiana di tutti e quindi tocchino ciascuno nel suo comportamento. Quando io ho passato in rassegna questi 17 obiettivi mi sono resa conto che alcuni, quelli diciamo dal 12 in avanti al 17 sono obiettivi che devono essere realizzati da parte delle istituzioni perché mettono in campo gli strumenti che le istituzioni hanno per intervenire. Ma ce ne sono una buonissima parte, una dozzina circa, che sono davvero nelle nostre mani. Quindi quello che noi proponiamo è riuscire ad avere una sorta di checklist, a me piace molto l'inglese, scusate anche il titolo della mostra in realtà è Art for the Global Goals ma perché in realtà tutto questo mondo parla un po' inglese però traduciamolo. La checklist è una lista di punti che noi possiamo spuntare per ogni cosa che facciamo, per ogni progetto che facciamo, per ogni iniziativa che mettiamo in campo noi possiamo dire ma ci ho pensato a questo argomento, sto facendo qualcosa perché questo tema sia affrontato nel modo giusto e se non lo facciamo magari è il momento per fermarsi e dire d'accordo facciamoci una riflessione e cambiamo atteggiamento. Sì infatti adesso leggo i 17 obiettivi così chi ci ascolta può capire. Allora sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese, innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, vita sott'acqua, vita sulla terra, pace e giustizia e istituzioni solide e partnership per gli obiettivi. Direi 17 punti dove c'è dentro veramente il nostro modo di vivere. Assolutamente e appunto ripeto in ciascuna delle nostre manifestazioni noi possiamo trovare il riconoscimento di questi valori, sono sostanzialmente dei valori che devono essere comuni, ognuno di noi può, deve partecipare, nessuno deve essere lasciato indietro rispetto all'adozione di questi valori. Il lavoro stesso delle due artiste, la pittrice e la fotografa, nasce da una condivisione, se vogliamo, obiettivo numero 17, partnership per gli obiettivi. Tradotto per questa collezione di opere significa che due personalità artistiche molto differenti e poi tra l'altro anche umanamente sono delle giovani donne con delle caratteristiche, un aspetto, uno stile completamente diverso, che hanno deciso di collaborare, quindi non di proseguire individualmente, ma di collaborare insieme alla creazione di queste opere sperimentando e poi si sono anche chieste, ma l'obiettivo quale può essere? È un obiettivo nostro, di vetrina, quanto siamo brave a fare il lavoro che facciamo? No, no, assolutamente. Anche loro si sono poste la riflessione che il loro può essere davvero un messaggio sociale e quindi potrebbe essere per esempio possiamo guardare la vita sulla terra, ci sono molte opere che fanno riferimento a questo, piuttosto che sconfiggere la fame, il che significa veramente considerare nella nostra giornata tante azioni che possiamo fare per questo obiettivo finale. Le opere sono realizzate in una maniera assolutamente originale, sono sperimentali. Si passa da un dettaglio che è estratto da una fotografia di Patricia Carpani e questo dettaglio viene isolato e la pittrice ricostruisce intorno a questo dettaglio un mondo totalmente diverso, un mondo di fantasia, un mondo possibile. Come dire, partiamo da quella che è una realtà che magari non ci piace e da questa riusciamo a costruire un mondo diverso, quello che noi possiamo piegare ai nostri obiettivi. Quindi devo dire anche nel concetto stesso del loro lavoro artistico si trova la rappresentazione e la testimonianza di questi obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Senti, diciamo quando è aperta la mostra, in che orari? Allora, la mostra è aperta dal 12 di febbraio al 3 di aprile, sono otto settimane, nei fine settimana noi garantiamo come sempre l'apertura dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, poi infrasettimanalmente come oramai è consuetudine da qualche mese teniamo la possibilità per chi vuole venire con dei piccoli gruppi per fare delle visite mirate e personalizzate alla mostra, non ci sono problemi, bisogna scrivere a battisterodivelate.com, sono già in programma alcuni piccoli gruppi per esempio con scuole, con il liceo artistico, insomma noi cerchiamo veramente di dare la maggiore opportunità possibile a tutti per entrare alla mostra. Ovviamente dobbiamo rispettare tutte le normative anti-covid, quindi bisogna essere in possesso di super green pass e poi anche di indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo, però insomma diciamo che le opportunità sono ampie e anche il periodo è molto lungo per cui vi aspettiamo. Ecco, adesso ritorniamo ai 7 eventi, penso che il primo inizi proprio sabato 12. E dunque sabato 12 innanzitutto al Vernissage avremo l'opportunità di incontrare queste due fantastiche artiste che conosceremo, alle quali possiamo porre anche delle domande sul loro percorso. Io ricordo tra l'altro che Claudia Cantoni e Patricia Carpani hanno ideato questa mostra qualche anno fa in occasione dell'expo. La mostra è stata esposta all'archivio di stato di Roma e poi successivamente l'ultimo viaggio è stato sul Monte Generoso in Svizzera nel fiore di pietra disegnato da Mario Botta, che è un po' un tempio della natura, è un tempio ispirato alla bellezza della natura. Ecco, ci sarà la possibilità di incontrare loro e di capire come fanno questo percorso, perché lo vogliono fare. Io ho visto bene il fatto di portarlo a Varese, ma soprattutto di creare per la prima volta, rispetto alle opportunità passate, una mostra con tutti gli approfondimenti, non semplicemente un passaggio per vedere queste opere, ma quindi anche raccontarsi cosa succede. A margine del vernissage, quindi il vernissage alle 15 di sabato 12 febbraio, a margine del vernissage, quindi un'ora dopo, ci trasferiamo nel limitrofo teatro oratorio alle 16, quindi quando avviene l'incontro con una giornalista di Sky TG24, Mariangela Pira. Lei è una giornalista di economia economica, lei cura in video la parte di approfondimento economico, è una anchor woman, quindi è una conduttrice di programmi televisivi, scusate l'inglese. Ha un curriculum pazzesco questa ragazza di 45 anni, bravissima, perché è laureata in giornalismo alla cattolica, poi ha cominciato a fare reportage in Africa, studi di approfondimento a Cambridge, a Oxford, in antropologia, in archeologia, in naturalmente economia, finanza, politica, mercati, studi cinesi, è un fenomeno in pratica, ma con una capacità di esporre le cose di narrazione molto semplice, molto coinvolgente. Lei è stata autrice di un libro che si intitola Il mondo nuovo, di edizioni chiare lettere, e verrà proprio a parlarci di economia, di quali sono le sfide soprattutto in questo periodo di post-Covid, perché la cosa interessante è riuscire a reintrodurre l'attenzione sui temi della sostenibilità proprio in questo periodo post-Covid, che è un po' diverso da come se ne parlava due anni fa, quindi è molto interessante questo contributo sui temi dell'istruzione, della parità di genere, della tecnologia, di tutto ciò che noi possiamo pretendere che le istituzioni facciano, ma anche possiamo agire personalmente. Quindi l'incontro con Mariangela Pira è alle 16 di sabato 12 febbraio. Per questo evento, come per tutti gli altri eventi al teatro oratorio, c'è la necessità di registrarsi preventivamente tramite Eventbrite. Eventbrite, lo ricordo per chi non lo conoscesse, è un sistema online che ci permette di acquisire tutti i dati, come se avessimo una segretaria virtuale che lavora per noi. Abbiamo tutti i dati di chi entra e li registriamo. Questo ci permette di ottemperare le normative che riguardano il Covid perché dobbiamo tenere il registro di tutte le situazioni in cui la gente si ferma ed è presente un evento. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Carla Tocchetti. Stiamo parlando di questo bellissimo programma, ricordo da sabato fino al 3 di aprile, però con una serie di eventi. Quello dell'apertura di sabato prossimo l'abbiamo sentito. I prossimi quali saranno? Dunque, subito la domenica 20 febbraio c'è un evento che io davvero vorrei sottolineare alla vostra attenzione perché parleremo con la Federmanager Varese, in particolare con il gruppo Minerva all'interno della Federmanager Varese che ha creato l'anno scorso un progetto di mentoring. Mentoring è un termine anche questo inglese che significa in pratica il fatto di allenare una persona, dargli dei consigli per la propria crescita all'interno del luogo di lavoro e anche personale. Naturalmente questo tipo di esperienza che è stata già fatta l'anno scorso nella provincia di Varese è un'esperienza che mette a fuoco spesso anche le dinamiche della parità di genere e cioè come possono essere sostenute le giovani manager della nostra provincia che si trovano all'interno di aziende che magari non rispettano totalmente la parità del salario piuttosto che le condizioni appunto di lavoro. Io devo segnalare che questo della parità di genere è un argomento che va assolutamente tenuto sott'occhio proprio perché durante il covid, durante il periodo della pandemia già subito dopo il primo lockdown sono stati persi a livello nazionale, regionale ma anche provinciale tantissimi posti di lavoro principalmente di donne che si sono ritrovate diciamo ad avere un ruolo più coinvolto nelle dinamiche della famiglia ma comunque hanno perso il loro posto di lavoro e questo ha portato quindi a un cambiamento della situazione di genere lavorativa all'interno degli uffici. Questo tocca anche le giovani manager ed è questo il motivo per cui la feder manager ha creato un gruppo di supporto a queste dinamiche, un gruppo che aiuta, che fa da coach, quindi fa da allenamento, da istruzione, anche da collegamento perché tante volte quando ci si trova in situazioni di questo tipo è interessante riuscire ad avere una rete di supporto, qualcuno che ti aiuti e che ti consigli su come muoverti all'interno di questa realtà. Ricordo che il progetto mentoring è un progetto in anonimato ovviamente per cui né chi prestava la consulenza né chi la riceveva si conoscevano e si sono visti ma tutto attraverso gli strumenti virtuali si è svolto nella più totale anonimità. Questo per garantire diciamo anche la sicurezza o comunque che non ci fossero, non so, ritorsioni per le giovani manager. Poi il 13 marzo, domenica? Il 13 marzo Maria Cristina Galdebini presenta il metodo avatar. Il metodo avatar è una cosa interessantissima che solamente di recente è stato traghettato in Italia. Si tratta di un metodo studiato da uno psicologo dell'età evolutiva americano, Harry Palmer, che attraverso una serie di materiali e di esperienze propone un percorso per la propria crescita personale, per rafforzare la consapevolezza di sé, ma in un'ottica, e qui torniamo agli obiettivi sostenibili, in un'ottica di sviluppare un'armonia tra le persone e raggiungere l'obiettivo di una pace che possa essere diffusa in tutto il mondo. Quindi Maria Cristina Galdebini, che è una master accreditata di questo sistema, propone anche qui, come tutti i nostri eventi è gratuito, la possibilità di una presentazione esperienziale e voglio dire approfittiamo di questo modo per introdurci al sistema avatar, potrebbe essere interessante per chi desidera fare un percorso e rafforzare la propria consapevolezza, la propria idea di sé, insomma di tirarsi su in un certo senso, se ci sono delle problematiche che possono colpire anche gli individui. Altro evento? Dunque, sabato 19 marzo, un altro eventone magnifico, parliamo del Lago di Varese e dell'accordo quadro per la salvaguardia e il risanamento, che è stato diciamo progettato da un insieme di istituzioni, un insieme vastissimo di istituzioni. Noi però, come ho detto prima, in questo progetto di Art for the Global Goals vogliamo considerare tutto dalla parte dei cittadini e quindi viene l'architetto Katia Cossato del Politecnico di Milano e ci racconta a che punto è il progetto, che è stato presentato anche alla Biennale di Venezia, progetto per la tutela e il risanamento, progetto nel quale anche i cittadini possono avere la loro parola. Infatti questo sarà un dibattito e infatti coinvolgerà anche il Parco regionale del Campo dei Fiori, che non ha giurisdizione diciamo rispetto al Lago di Varese, ma è proprio in un clima di condivisione e di raffronto anche tra persone che abitano in questo territorio che noi proponiamo questo intervento. Molto molto interessante. Domenica 27 marzo invece, questa è una cosa bellissima. Noi abbiamo attivato la collaborazione con il Fotoclub Varese APS e loro a loro volta hanno una rete di Fotoclub del nostro territorio lombardo e piemontese che periodicamente si aggiornano con delle rassegne di audiovisivi. Alcuni di questi sono filmati talmente belli che riscuotono premi e riconoscimenti. Quindi l'occasione è stata ghiottissima per poter chiedere a loro di fornirci i 5-6 migliori filmati realizzati da noi, dai cittadini, dai fotografi appassionati di video, di multivisione. Quindi avremo 6 filmati che parlano di 6 obiettivi per la sostenibilità. Questo davvero è un invito che mi sento di rivolgervi caldamente perché io li ho visti in anteprima. Sono commoventi, sono fonte di ispirazione, sono la testimonianza di un lavoro appassionato. Dovete venire a vederli. Questo il 27 di marzo alle ore 16.30. E poi chiudiamo con una cosa anche questa molto toccante. Il 3 di aprile avremo i ragazzi della scuola elementare di Velate che verranno con il CFM di Barasso, che noi ringraziamo per questa collaborazione, verranno da noi a raccontarci che cosa significa musica sostenibile, come può essere importante anche la musica per realizzare questi obiettivi. Sarà una cosa molto bella, devo dire che è da non perdere e questa iniziativa rafforza ancora di più l'idea che il nostro Battisterio di Velate sia un polo culturale sempre molto più forte rispetto al suo territorio di riferimento, che è Velate, ma che è anche Varese ed è anche la Lombardia tutta. Senti, vedo qui dalla Locandina che è cambiata un po' l'associazione che gestisce il tutto. Sì, allora innanzitutto Bioti Fulvarese è arrivata al capolinea della sua attività, non entrerà nel nuovo registro unico del terzo settore, chiude la sua attività dopo tanti anni di onorato servizio e devo dire che in maniera molto serena guardo a ciò che abbiamo fatto con grande soddisfazione e con grande orgoglio, perché abbiamo tenuto aperto sempre con tantissimi eventi, ma forse sono più di 200 da quando l'associazione nel 2014 era stata creata. Però le cose cambiano e a un certo momento il modello di assistenza istituzionale verso le associazioni per noi è diventato un po' farraginoso da raggiungere, perché ha messo in campo delle responsabilità che veramente anche troppo pesanti per noi singoli. Allora a questo punto abbiamo fatto una riflessione anche che riguarda la continuazione dell'attività culturale al Battistero di Velate e ci siamo detti, ci siamo confrontati con il parroco della comunità pastorale che è il Don Gianpietro Corbetta e quindi questi progetti che noi facciamo sono progetti culturali della comunità Maria Madre Immacorata, sono progetti della comunità pastorale e servono in questo momento a rafforzare l'idea di questo utilizzo del Battistero di Velate, l'utilizzo quindi dell'oratorio di San Domenico in particolare per attività culturali continuative. È una cosa che deve prendere sempre più piede, non che non lo sia già ma insomma sempre di più, perché un domani potrà essere attivato solo su questa base la possibilità di un futuro restauro. Mi spiego, se all'interno di questo edificio viene svolto un progetto culturale importante per la comunità, allora a questo punto si può pensare, poi anche fare, ma insomma intanto cominciamo a pensarlo, un progetto di recupero. Quindi è un qualcosa che alza la nostra assicella di intervento, è il motivo per cui partiamo con questa grande mostra e con questi sette eventi impegnativi ma anche di grande prestigio, proprio per rendere questo luogo un luogo, un faro in un certo modo, un faro che possa raccordare tante realtà del territorio e poi espandere la sua portata benefica, restituirla proprio al territorio e anche oltre. Naturalmente per fare questo noi contiamo sul concetto di libero apprezzamento di steineriana memoria. Che cos'è il libero apprezzamento? Significa che noi ci mettiamo tutto l'impegno e il sostegno lo chiediamo a voi. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che tra virgolette ognuno porti la sua pietra per la ricostruzione, cioè se qualcuno viene ai nostri venti o li osserva da lontano o ritiene che questo lavoro sia stato importante, sia importante per sé o per gli altri, come può fare in modo che ulteriormente possa essere a beneficio di altri? Si può venire da noi, sostenerci, aiutarci come fate voi a radiomissione. Quindi ci sono tanti modi e contiamo davvero sul fatto di impostare una nuova sfida anche gestionale da questo punto di vista, tenendo conto del supporto di tutti. Non per niente ho scelto una mostra sulla sostenibilità per iniziare questo nuovo corso. Senti Carlo, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, il tempo proprio vola, vola. Già finito. E una domanda velocissima, in due parole, perché venire a vedere questa tua mostra? È una mostra eccezionale, è una mostra eccezionale, ci sono tanti spunti che sicuramente ci arricchirà e ci darà motivo di pensare, di cambiare il nostro atteggiamento verso la vita a partire dal minuto in cui l'abbiamo vista. Grazie e al prossimo evento. Grazie, grazie mille Sergio, grazie.